Ben trovati l'ATG della mobilità venerdì dalle 20 a mezzanotte, sciopero serare del trasporto pubblico che interesserà Atac e Roma TPL nella capitale e Cotral a Roma e nel Lazio. Per quanto riguarda la rete bus saranno garantite le corse previste sino alle 19.59 e poi quelle in programma dopo la mezzanotte. Non saranno garantite invece le corse delle linee bus notturne, le linee N previste prima della mezzanotte e un minuto. Non sono escluse ripercussioni anche sulle attività al pubblico di Roma Servizi per la mobilità, il box informazioni a termini dalle 11 alle 13 e 30 e dalle 17 alle 20 e il checkpoint bus turistici di Aurelia dalle 11 alle 14 potrebbero inoltre non essere garantiti dalle 13 i servizi dello sportello permessi di piazzale degli archivi dalle 15, quelli del contact center 0657003. È tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.